Stiamo girando, Benny. E non ti far vedere sulla porta per piacere, perché mi dà fastidio, mi distrae. Scusami, cosa ricevi? Marina mi piace molto. Ha quest'area snob, d'altra parte, chi nasce in certe famiglie ce l'ha per forza, no? Lei è così, è totalmente libera. Ha una bellezza interiore. Nel cinema ha fatto benissimo, nella fotografia ha fatto ancora benissimo. È stata la pioniera delle produttrici italiane. È nace Cogna e è resta totalmente fidela a me. Chic, è una rebella. Grand Prix Internacional del Festival del Cannes. Enquete sulla Cittoria al-dessus di tutto il suo sangue in Italia. This one is for investigation of a citizen about suspicion. Io volevo fare dei film quando era gente che io pensavo avesse talento, ma che non era ancora arrivata. Non è che lo facessi perché si osava o perché altro. Lo facessi perché mi sembravano delle combinazioni, registi, attori, storie, eccetera, che funzionavano. Quando l'ho conosciuta, Marina era un personaggio molto forte, però sentivi una fragilità dal punto di vista affettivo. Io sto qua. Avevo un legame strettissimo con mia madre che si è un po' fratturato. Il mio fratello purtroppo è molto, molto giovane. Se lui si suicidò, se fu ucciso, non lo so, non lo saprò mai. Una cosa che mi venne naturale fu veramente di allontanarmi da tutto questo, quello che io non riuscivo a accettare. Non è che io sia attaccata a dei pensieri o a dei ricordi o a delle cose di famiglia, non particolarmente. Se tu mi dici tra il tuo mondo di cinema e la famiglia, cosa è più importante, è più importante il cinema. La famiglia è una cosa casuale, il cinema è una scelta.